Sì, no, non posso oggi, eh, da mo' tre anni ho avuto. Ehi, ehi, scendila là, no, che succede, su. Una scavalcata ed è scappata. Nandù, ieri due, esce qui. Ma che io, dice il direttore? Eh, comunque, soffesseria, eh. Soffesseria questa. Dieci minuti fa, ho visto la morte in faccia. Eh? Mi stava cadendo i telefoni per te. Eh, bravi. Eh? Da che ci sono andato? A me due giorni fa il cellulare è precipitato dal decimo piano giù. Ma, dal decimo piano? E quindi si sarà spragannato completamente? No, 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 illeso. Un colpo di fortuna, avevo messo la modalità aereo. Bravo, bravo. Ma le volte... Mi avrà fatto un atterraggio morbido. Sì, sì, tranquillo. E da qui, è grosso, non ce la fa scavalcare. Non ce la dà la mano. Eh, ce la mano. Ti aiutiamo noi, vieni qua, vieni, vieni. Un tuo gioco fortunato.